Buongiorno, buongiorno, ci siamo, ci siamo, oggi sono depecorizzato con un buono schiso, ma soprattutto, eh, sì, 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 è venerdì, sì, 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 è venerdì, voglio belli carichi, voglio vedere tutte le vostre, tre storie, no, vabbè, no, sta pieno anche stamattina, raga, guarda, l'alberello se n'è andato, è troppo pieno di figa, la mimosa è uscita, guarda la Sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, ahhh, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, ah, che bello, non ha gusto, nella doccia isagi, profumo top per stare sempre pieno di figa, fate swipe up e con il codice carletto non pagherete la spedizione, eccolo oh no oh no le chiavi dell'elicottero le prese tu le chiavi le chiavi le chiavi le chiavi che mi chiamo le chiavi sotto le chiavi dell'elicottero ce l'hai tu si 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 è venerdì si 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 e di coglioni donna pancuno oh si 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 e venerdì si 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 e venerdì ancora qualcuno che non ha capito oggi che è si 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 è venerdì si 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 è venerdì per avere la maglietta ufficiale fate swipe si 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 e venerdì, sì 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 è venerdì oggi perché sì 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 è venerdì seguo tutti quelli che acquistano sul mio merchandising www.carlettolife.com mandatemi lo screen e poi vi seguo fate swipe siamo oggi, si parte a mille oggi voglio vedere le vostre storie voglio vedervi belli cariche voi vi dite ma come fai tu a essere carico tutte le mattine raga, c'è il sole che spacca le pietre, è venerdì c'ho da voi, come il fondo non è a essere carico, come faccio come faccio, e adesso è il momento delle vostre storie lo voglio raga, quindi esplode il telefono forza sì 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 è venerdì eccolo vogliamo ringraziarvi, anche Jacopo vi ringrazia per tutte le storie sì 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 è venerdì continuiamo così, sto continuando a seguire tutti quelli che hanno acquistato www.carlettolife.com siete grandissimi mandatemi lo screen e vi seguo c'è qualcosa di? fantastico fantastico, super, top amazing mi qua oh no oh no ma perché? ma perché vuole suona no sto si sì sì è venerdì sì 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 è venerdì sì 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 ah è venerdì sì sì lo stronzo eccolo qui sì 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 lo stronzo eccolo qui sì 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 va annuncio sì 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 si si si, levati, si si si, mannaggia il crociato no sono mancato da uno a centocinquantamila miliardi dei milioni dei milioni dei miliardi di uniti ma guarda qui sono stato tanto bene ma mi hai chiamato visto una chiamata persa era scritto eh ho chiamato lì a due o tre volte sempre col telefono mio ma che c'ho io c'ho? c'è il segretario da lì c'è il segretario chi il segretario è? eh rispondevi perchè? c'è il segretario che vale il numero tutto e io vaffanculo pure anche dal segretario mio c'è il segretario un po' che c'ho e come mi piace fermate che questa spalla mi ruote no no mi ruote mi da grattare da grattare? che c'è? che c'è? che c'è? quanto è? guarda un po' tangente che cazzo cazzo eh e mica è sempre tangente oh faceva il furbetto faceva il furbetto eh toh toh stroncio a ripetizione perchè? con la bandiera dietro ma perchè? uno stroncio nucleare oh poi perchè? eh guarda un po' guarda un po' che ti ho dato un bel niente guarda un po' che ti ho dato sui